come va il secondo giorno? un po' meglio un po' meglio? il culetto fa male? il culo fa male dove arriviamo oggi? a torre a torre poi torniamo indietro? la fai? la fai a porto di torre archirafi vedete? e c'ho papà che è il secondo giorno dei bici abbiamo comprato il coprisella le scarpe come va oggi va? un po' meglio un po' meglio il culo ti fa male il culo ti fa male i polsi ti fanno male? a posto però sei contento? si ci vediamo più tardi vediamo se riesce ad arrivare a casa ok? a dopo guardate ragazzi il vecchio cammina eh? già 17 chilometri a 20 all'ora eh? ce la fa? ce la fa? allora abbiamo completato il secondo giorno in bici adesso siamo qua ci mangiamo un bel arancino siciliano in modo da riintegrare le energie perse come è andato sto secondo giorno va? un po' meglio un po' meglio domani no ma dopo domani riandiamo in bici giusto? certo ti è passata la voglia? no no la voglia c'è dopo domani riandiamo in bici quanto facciamo? sempre 30 chilometri? di più 40 40 vuole azzardare a fare 40 chilometri vediamo se ci riusciamo vediamo eh ragazzi e ci vediamo noi domani credo di fare messina fiume freddo messina messina fiume freddo dopo domani riusciamo insieme io e mio padre ok? come al solito mi raccomando iscrivetevi al canale perché? com'è il canale va? come il canale gratis mamma mia